Positivo al covid, obbligato alla quarantena in casa eppure sorpreso in un negozio intento a fare compere. Protagonista un 45enne di calco fermato dalla polizia locale proprio mentre stava uscendo dall'esercizio con la spesa appena fatta. Sono da solo, in qualche modo devo pure mangiare, ha provato a giustificarsi con gli agenti che gli hanno ricordato come in paese fosse attivo il sistema di consegna di farmaci e generi alimentari a domicilio. L'uomo è stato multato, diffidato e denunciato. Solo a calco nell'ultima settimana si sono registrati 16 nuovi casi di contagio. Intanto sono state 379 le persone controllate dalle forze dell'ordine nella giornata di sabato nell'ambito dei consueti controlli per il contenimento della diffusione del covid sul territorio lecchese. Di queste 22 sono state sanzionate. Per quanto riguarda invece le attività commerciali, 84 quelle controllate e nessuna multa è stata elevata. A Lomagna invece i carabinieri di Casatenovo hanno chiuso un bar del centro. Durante i controlli militari avrebbero sorpreso sette clienti che non rispettavano le misure di contenimento del virus. I carabinieri hanno staccato multe da 400 euro sia loro sia al barista, a cui poi è stata imposta una serrata di 5 giorni dell'esercizio pubblico. Nell'ultima settimana sono state fermate e controllate quasi 2500 persone, 87 delle quali sono state multate perché hanno violato il lockdown e il coprifuoco da coronavirus, mentre le ispezioni, negozi e esercizi commerciali sono state circa 500 con il riscontro di due violazioni.